3,2,1 GOOD MORNING Porca put***a che m***a Dov'è che m***o sono? E cos'è sta zucca di m***a? Che m***a! L'ho già detto che m***a? No! Perché è proprio una m***a Una m***a Ehi Dato che nell'ultimo periodo sono stato abbastanza disattivo Io oggi per farmi perdonare Ho deciso che farò un mini prank A Dani Ma che è? Eccolo! Con questo qua ragazzi oggi faremo uno scherzo A Dani sapete cos'è? E' una pallina con questo coso strano tipo Io in pratica farò finta che stiamo giocando tipo con la palla fuori strada e spacchiamo la macchina di Dani Lo chiameremo e lui farà Oh m***a! Ok andiamo ad attaccare il coso della macchina di Dani Eccola ovviamente è sempre quella parcheggiata Vieni a vedere Vieni a vedere No bro Il vetro davanti No Cosa ti vuoi fare? Bro Bro che cazzo mi hai fatto la macchina? No Stanno giocando il salmo non l'ho fatto apposta bro No bro no ti prego bro No bro No bro No bro Cos'è? Dani la cavalla proprio lui Come avrete visto Dani la cavalla è un super saiyan ed è così ricco che non ha i soldi per comprarsi solo un vetro nuovo Una macchina nuova Tutti nei commenti con Hashtag Dani la cavalla Raga sono fomentatissimo e mi sono studiato tipo lo scherzo del secolo che sarà una bomba In qualche parola lo scherzo è per Giulia Quindi in questo momento io sono alla Starbucks lei a casa sua Voi guardatevi lo scherzo Anche perché se va come dovrebbe andare Dopo che le faccio lo scherzo ci sarà anche una sorpresa In tutto ciò io sono d'accordo con i suoi genitori Giulia è l'unica che non sa di tutto ciò Quindi vedremo cosa succederà vedremo come reagirà Speriamo in bene raga Ehi come stai? Ah io bene e tu? Eh così così non ha una bella notizia Ma in che senso? Eh anzi è una bruttissima notizia Mi ha chiamato mio padre e mi ha detto che l'hanno chiamato per lavoro e deve tipo trasferirsi Non so per quanto tempo in realtà tipo un mese o due E mi ha detto che devo andare con lui in America Cosa? Allora prima cosa non puoi muovere ti metti c'è il covid Per lavoro so che si può fare Ma che lavoro è? Non te la puoi prendere con me io non volevo Cioè io gli ho detto che non No 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 adesso vabbè Non vuoi dire non vuoi far altro che vai Eh ma anch'io l'ho scoperto all'ultimo non ci posso fare nulla E tra l'altro sai qual è la cosa peggiore? E lui mi sta venendo a prendere adesso vuole partire subito E' impazzito Ti prego vieni a salutarmi adesso se no Vieni Non è uno scherzo Non è uno scherzo Vieni adesso mi sta venendo a prendere mio padre Hai capito? Tra poco mio padre è qua che viene a prendermi Quindi ti prego vieni subito se no non possiamo più vederci Vai ok fai veloce ti prego Dai ci vediamo dopo fai veloce Non so Ragà Oh mio dio Ok quindi lei adesso in questo momento sta venendo alla Starras raga Ora devo per forza organizzare un piano Ok ragazzi oggi c'è lezione con Proffer Gennaro Ora vi spiegherò come sarà strutturata la sorpresa che ho organizzato per Giulia Questa è la Starras Stados Ci mettiamo una S sopra Mentre questa è la casa di Giulia Ci mettiamo una G In questo momento noi ci troviamo qua E Giulia ovviamente si trova qua Noi in questo momento partiremo e andremo da lei Lei molto probabilmente starà già venendo alla Starras Staus Però al momento che arriverà alla Starras Staus non troverà me Automaticamente farà così un bel giro che Ritorna indietro Appena arriverà qua troverà un bel pacco regalo Un bello gigante con un fiocco enorme qua Con il Gennaro dentro Da Proffer Gennaro è tutto ci vediamo alla prossima Stiamo andando a casa di Giulia Salemi E sono emozionatissimo Ragà 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 è arrivato Giulia È arrivato Giulia ragazzi Chi è? Giulia Vai ti apro aspetta È aperto? Ho preso anche le candele per fare la sorpresa Giulia E adesso stiamo andando a casa sua Che bello? Che bello? Dove? Ma cazzo dove stava venendo? Vuoi salutarti? No mi ha venuto in poste Ho cercato Quindi adesso andremo a casa sua e le farò questa sorpresa Di là in stanza Cori Cori Chi hai partito? Ciao venendo a casa per salutarti Ma sei detto che hai partito? Ragà c'ho un camera ma è che è un po' strano Oh m***a non è una camera quella Porca p***a sto cercando di parlare Ah vedi x a vedi Dai non so che cazzo fare ancora Se c'è un c***a che non sa riprendermi C***o Tuo autista non devi parlare Il autista non deve parlare C***o 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 Qua è tutto pronto, abbiamo andato battuto Come avete già visto, io ovviamente ero d'accordo con loro Tra poco arriveranno, Sopar è d'accordo con noi Quindi ovviamente dopo gli manderà un messaggio Lui quando sono qua fuori, aspettiamo Ok raga Gli ho dato un messaggio e sono qua fuori Alza raga, voglio far partire questo Quando entra lei, però sta arrivando Sta arrivando Brutto cosa Eh sono partito Vai, aspetta Guardati questo prima e poi e dopo mi picchi Aspetta, 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 io stai giocando E poi capissimo E che poi se ci pensi sarebbe anche bello Tra i tuoi insieme Al mare con una grandissima pizza A guardare le stelle Però Ora è solo che tu sapessi che Io non guarderei le stelle, io guarderei te Oh nooo Oh nooo Allora un'intervista subito a caldo Bello Mi sono emozionata Sei commossa Reazione a caldo È stato tutto così bello Perché non mi aspetta pure le candele La scritta I love you In petali di rosa Cioè davvero è stato tutto davvero straordinario E sono felice di questa cosa Perché devo ringraziare qualcuno là su Grazie di esistere Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate qua sotto un bel like Iscrivetevi al canale se ancora siete iscritti Non vedo niente Quindi ho gli occhi chiusi Seguitemi su Instagram Er.Gennaro Sto per piangere Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao Ciao Ciao